stop a volte i cibi e le bevande di tutti i giorni possono dare l'alito cattivo già a questa distanza può dare fastidio ma oggi c'è cloralit cloralit con erbasol combatte l'alito cattivo in modo veloce buono cloralit accorcia le distanze perché puoi avere l'alito cattivo più spesso di quanto pensi da oggi cloralit è anche senza zucchero grazie